Ciao a tutti, siamo a Monza per la gara di casa, mia e di DAV Racing. È una pista molto veloce, la più veloce dell'intera stagione, ci aspettiamo delle gare aperte e combattute. È bello vedere i nostri amici e anche sponsor venuti qui per sostenerci. Speriamo di poter rilegarare una bella performance.